di nuovo sul questo di nuovo sul white paper di 10 pagine a qua ci fa anche una comparazione con i competitors che chiaramente vi lascio lascio fare a voi direttamente altrimenti ci annoiamo in questo video allora torniamo un attimo sul sito ufficiale andiamo a vedere il team il team è importante molto spesso importante anche a volte non è tanto importante dico la verità però se c'è è una buona cosa qui parliamo di del team con i vari profili linkedin che si andiamo a vedere sono esistenti mente attivi esperienze registrate su vari profili ecco qui si può andare a vedere andiamo un attimo sulla pagina principale allora questo john king 6 professional 3 del professionale con un'esperienza molto spesa nel rischio manageriale con praticamente un aspetto di tecnologia ecco vari aspetti allora infine non sto qui a elencare per tutti altrimenti vi annoierei ma potete andare a vedere qui andando sul sito principale abita.com slash it e andate su team e vedete spulciare tutti se volete poi andando qui in fondo ci sono anche vari social facebook twitter e i canali telegram e gruppo poi se ne andiamo su documents troviamo i documenti che vi ho fatto vedere il white paper una pagina sarebbe questo qui poi torniamo un attimo indietro i white paper 10 pagine termine le condizioni e poi white paper 69 pagine in inglese allora come vi chiederete il costo di ogni arbitrao quanto sarà praticamente sarà di 9 centesimi al prezzo attuale praticamente 0,000 15 bitcoin vediamo qua che dice in m bitcoin che è una montata misura di bitcoin più piccola praticamente dobbiamo fare per mille questo questo valore qui che vediamo quindi ogni arbitrao costa 0,000 15 bitcoin se ne vogliamo prenderne 100 ci costerà 0,015 bitcoin moltiplicato per il prezzo attuale dei bitcoin che 5200 euro sarebbe 7 dollari 80 7 dollari 80 prendiamo 100 arbitrao chiaramente 1078 euro scusi e quindi